E' un qualcosa di utopico e non realizzabile a mio avviso. Non ammette interpretazioni la posizione del capogruppo all'emiciclo Sandro Mariani circa la prospettiva di un ospedale unico baricentrico in provincia di Teramo, tra Mosciano e Ballante, così come più volte ventilato ad esempio dal direttore generale dell'ASL di Teramo, non senza il sostegno di parte della politica teramana. Altra cosa è pensare a un ospedale unico dislocato sui quattro distretti ospedalieri che attualmente abbiamo tra Atri, Giulianova, Sant'Omero e Teramo. Quindi creare delle specialità nei quattro presigli. Sul tavolo resta il destino della sanità teramana l'unica tutta pubblica, minata oggi dalle prospettive di vedere volare via verso l'Aquila e verso Pescara alcune eccellenze. Per Mariani si è davanti a un cambiamento epocale. Uno perché naturalmente siamo di fronte a decreti ministeriali che impongono certi ragionamenti e dall'altro perché c'è la coscienza da parte di questo governo regionale, da parte di tutti noi, che la nostra sanità, così come è stata organizzata, ad oggi non funziona così bene. Questo ce lo dicono i cittadini. Cosa perderà Teramo allora? Teramo perderà quello che oggi non ha ragione di stare in piedi. Ad esempio? Esempi puntuali non ci sono attualmente perché il nuovo piano sanitario lo si sta discutendo in questi giorni. Si parla delle chirurgie? Si parla della neurochirurgia sulla quale faccio un ragionamento. La maggior parte dei cittadini, molti anche miei amici, se hanno un problema di questo tipo si fanno operare all'Aquila da Galzio. Quindi guardiamoci in faccia e diciamo la realtà delle cose. Su questo vogliamo mantenere la neurochirurgia. Se vogliamo conservare la neurochirurgia bisogna che la neurochirurgia sia all'altezza dei cittadini e che la gente non scelga più Galzio all'Aquila ma scelga Teramo con un nome importante, con qualcuno che dia sicurezza agli utenti. Così come si è fatto per la cardiochirurgia, così come si è fatto con Diegidio per la Stroke Unit e tutto quanto, quello che è connesso alla Stroke Unit. In sintesi? Quindi di conseguenza se c'è lo staff, c'è il nome, c'è la qualità, c'è anche la riconoscibilità da parte del cittadino di una risposta adeguata. Grazie.